bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il re del cancetto 1 farò la recensione di un film del 2004 american party due gambe da sballo giovane liceale adottato scopre di essere l'erede di un impero della pornografia le ragazze che lavorano per lui corrono in suo aiuto per ostacolare i piani di uno zio cattivo il mio voto a questo film è 7 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione la sceneggiatura è di genere commedia la durata è 1 ora e 49 minuti paesi di produzione stati uniti d'america l'attrice è ellie landry brava attrice il regista handy fickman la regia è buona bravo regista nel film anche christine luckin colin camp cadem erdison lynn shea martin patterson justin bearfield robert richard ryan bitley william hatterton charlie talbert robert torti saluto anna guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram arrivederci al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto